Il ritorno di Padre Pio Cento anni dopo, il frate delle stimmate riceverà l'abbraccio dei fedeli nella sua pietrelcina. 8 channel, vi farà vivere il grande momento di fede in diretta tv. Giovedì 11 febbraio 2016, dalle 11 alle 13, sul canale 696, speciale Padre Pio. Ospiti in studio e collegamenti in diretta tv da Piana Romana. Il ritorno di Padre Pio, solo su 8 channel, canale 696 del Digitale Terrestre.